Savona è molto legata al mare, sia per la sua economia sia per il turismo. Nell'area dei giardini del prolungamento è collocata la statua di Garibaldi, accanto alla spiaggia con numerosi stabilimenti balneari. Lungo Corso Colombo e Corso Vittorio Veneto, le due più importanti arterie del lungomare, si allineano interessanti edifici costruiti a cavallo tra 800 e 900. Il fulcro del quartiere delle Fornaci è il famoso scaletto dei pescatori che anticamente ospitava le fabbriche di mattoni e i gozzi, le barche e le baracche dei pescatori della zona. Oggi lo scaletto è un luogo di ritrovo e attuale sede della spiaggia senza barriere architettoniche della città che richiama turisti diversamente abili da tutto il nord Italia. Grazie a tutti.